Cambiamento in vista all'interno della diocesi di Belluno-Feltre, sono stati decisi alcuni spostamenti che coinvolgono tre sacerdoti e altre tante zone della provincia. Valle di Cadore, Venasse e Cibiana, le tre parrocchie della Valle del Boite, rimaste senza parroco dopo la morte di Don Giuseppe Bortolas, vengono affidate a Don Alessandro Coletti, finora impegnato a Seren, Rasai, Valle di Seren e Caupo. Sabato scorso il vescovo Renato Marangoni ha incontrato il consiglio pastorale parrocchiale unitario delle quattro comunità feltrine, spiegando loro il motivo della sua decisione. Classe 1983, Don Alessandro è originario della parrocchia di Tai di Cadore, è stato ordinato prete in cattedrale a Belluno il 14 giugno 2014. Dopo l'ordinazione è stato vicario parrocchiale a Sedico Bribano Eroe fino a novembre 2018, quando divenne parroco nelle quattro parrocchie del comune di Seren del Grappa. A Venezia ha frequentato i corsi che lo hanno portato a conseguire la licenza in diritto canonico, competenza per la quale è membro dell'equip diocesana per la tutela dei minori. Dal 2019 è assistente ecclesiastico della Gesci per la zona di Belluno. Il posto di Don Alessandro viene assunto da Don Robert Soccal come parroco insolido con Don Giuseppe Bernardi, classe 1968, ordinato in cattedrale a Belluno il 5 giugno 1993. Nei suoi 28 anni di ministero Don Robert si è spesso interfacciato con il mondo giovanile, come vicario parrocchiale di Longarone, come vice direttore del centro Papa Luciani di Santa Giustina, come assistente degli universitari, come incaricato per la pastorale giovanile e come insegnante di religione. Infine la comunità parrocchiale di Tisoi, guidata in questi mesi da Don Graziano Dallacaneva, viene affidata a Don Giorgio Soccol assieme alle parrocchie di Orzes, di cui è parroco dal 1999, e di Bolzano Bellunese, che guida dal 2011. Nato a Taibon a Gordino nel 1953, Don Giorgio è stato ordinato per esbitero in cattedrale a Belluno nel 1977 e per molti anni è stato guida della Caritas Diocesana.